Buongiorno e buona domenica, oggi faremo insieme le mie lasagne della domenica alla Bolognese, eccole qua Fate un soffritto con olio, cipolla, sedano e carote Unite il macinato a vostro piacere Passata di pomodoro, io uso la mia fatta in casa, in più metto anche una metà di passata di pomodoro condita con delle verdure Per la besciamella vi lascio in coda al video tutti gli ingredienti Adesso andiamo a condire le nostre lasagne con una bella mozzarella, fior di latte fresca fresca Io faccio 4 strati con besciamella, sugo, carne e parmigiano e questa bella, bella mozzarella Le nostre lasagne sono quasi pronte, andranno in forno a 180 gradi, coperte per circa un'ora, un'ora e un quarto Eccole qui pronte le nostre lasagne da gustare Per la besciamella unite al burro tutta la farina, poi latte, sale e un pizzico di noce moscata